la follia impera ora non è obbligatorio farlo così però questo è quello che intendevo prima per l'aria dice il buco apposta per sfilarlo se è il caso si mette qua il manichettone con l'aria forzata ripeto è follia mi piaceva così e qua ci mettiamo un grillino naturalmente e ora lo devo saldare sul bruciatore